Buon pomeriggio, oggi siamo qui, vi fai vedere un immobile che si trova nella via Vittorio Emanuele e quindi per una volta non dobbiamo fare molta strada per andare a vedere la nostra casa al segno perché questo immobile si trova direttamente nella via dove abbiamo il nostro studio a fianco alla piazza Quattro Novembre e a Donato, nella zona del municipio di Quattro esattamente, non stabile, sopra di qui Andiamo al secondo piano con l'ascensore Da questa parte, saliamo per l'ascensore, direttamente al secondo piano Da questa parte, siamo arrivati al secondo piano di questa palazzina che ha due appartamenti per piano Adesso apriamo tutte le porte, così facciamo entrare la luce perché è una casa molto luminosa Questa è la prima parte Come vedete abbiamo, in cui il pavimento è abbastanza classico, i valitori Questi vengono ripresi con la luce d'aprice e trovano ex novo Tutti gli fissi sono di legno, quindi anche se non hai detto camera In questa parte è possibile puntarlo allunga verso quel legno Che in questa parte ci ha lasciato su una zona di attivizia Non avevamo un interesse capabile Ma dovessimo passare per intenderci Inoltre, questa è una parte di qualità L'ho trovato in poche case in questo periodo L'armadio in parete Sfruttando questa è una doppiante Ovviamente uno potrebbe anche scegliere di realizzare un armadio classico Tendo conto che entrambi gli armadio e due stanze Vanno a affacciarsi sul ripostiglio centrale Ora, questo potrebbe essere tranquillamente eliminato per ampliare le due zone di capire Maio Bono Pedrani Andiamo a quello che è l'ambiente Che il precento dei livello ha fatto come succedere Ma a tutti i effetti È un'altra camera ma comunale Una camera di pensione con ritrova vicino Che porta a attacciarci sulla zona interna di quarto Dagi abbiamo la chiesa di Sant'Elena E i vari palazzi storici della via Vittorio Emanuele L'immobile ha avuto per tanti anni un inquinismo, ma c'è stato quello che ho preso dell'immobilità di Calabinita e raccogliente la azione di alcune manovolizioni per l'immigianistica. Ma in compenso abbiamo una gestione condominale, un'idea di ascensore e una vista sicuramente impiegarevole, essendo un piano alto privato di solo un ascensore. Qua siamo sulla parte interna, quella è Sant'Enera, l'altra è la Piede Sant'Antonio, sicuro che la valga a Pendi, anzi lamentate che al fine video faremo le nostre domande. Qua abbiamo ugualmente l'armadio a parete, con questo che appunto è la loro odiante e vi ricordo come stavamo dicendo prima che all'interno abbiamo un costituito, quindi non ho messo nel piano di arco, ma adesso vi avremo un bagno in camera. Tente conto che al progetto di moglie ha un bagno, anch'esso con un affaccio nella medesima posizione, sempre sulla parte interna. Quella affaccio che vedete è il medesimo da cui possiamo accedere tramite la balconata che è posizionata sulla cucina. Infatti questa, che rispetto alle vecchie scelte di un bagaggio a giro intorno alla parete, è la zona cucina che porta direttamente sul balcone esterno. Tente conto che poi sulla stessa balconata abbiamo un altro ambiente, perché nasce in effetti come zona lavanderia, con una brana, con una pistola di sfruttarlo, ma ad ogni modo può essere comunque un ambiente di utilizzo per le varie funzioni ammigliari. Spero che questa breve visita vi sia piaciuta, prima di concludere per gli amanti di questi giochi le domande che stavate aspettando. Prima domanda, quante porte interne ho aperto dall'inizio della visita? E ora, la seconda domanda. Vediamo se ci siete arrivati. Quale e con che numero di oggetti era presente all'interno degli armadi a parete? Le risposte verranno messe giù nei commenti, ma comunque ne vediamo alcune. Grazie di aver partecipato alla nostra visita e alla prossima. Dalla Poledico, benvenzione immobiliare.